Stasera abbiamo prenotato un tavolo per cena alle 10 perché aspetteremo la mezza notte che è il mio compleanno. Per non arrivarci affamati ora prepariamo la merenda insieme. Yogurt greco che è la base di tutte le mie merenda. Lo verso qua dentro e lo ammorbidisco un po' con l'acqua. Basta aggiungerne un goccetto giusto per renderlo più morbido e qualche doccia di dolcificante. Per aggiungere questa consistenza simile crema gelato fighissima. Poi taglio mezza mela, ce la butto dentro e poi preparo la cremina per ricoprirlo. Dovevo prendere una tazza più grande perché qui non c'entra, non so come farò. E ora che ho più o meno uniformato il tutto, il cucchiaino si lecca. Vado a creare una tipo cremina al cacao perché ho voglia di cioccolato in ciclo e sono giustificata, però facciamo finta che stanno. In questo momento sarei capace di finirmi un'intera tavoletta di cioccolato, quindi inganniamo il mio palato così. Lo verso sopra lo yogurt anche se dovrebbe essere un po' meno liquido. Vabbè, facciamo finta che va bene. Lo lascio riposare in freezer, l'ho fatto...